È stato personalmente il presidente della provincia di Arezzo nelle scorse ore a fare un sopralluogo all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, la cui sede è inagibile dall'inizio del mese di settembre dopo il crollo del solaio e del controsoffitto in un'aula. Innanzitutto abbiamo fatto una verifica, un sopralluogo con tutti i consiglieri, sia di maggioranza che minoranza, con i rappresentanti anche del comune e della stessa scuola, perché ci sembrava giusto quantomeno andare a fare una verifica interna della struttura anche per capire e percepire con mano. E lo abbiamo fatto nel momento giusto perché evidente nel momento dell'emergenza, nella fase dell'emergenza, era necessario intervenire soprattutto per capire se la struttura in sé sia norma oppure no. E da questo punto di vista noi abbiamo una relazione, i nostri tecnici hanno fatto delle verifiche e di fatto la struttura in sé come alimenti strutturali è idonea. Quello che ha subito naturalmente il problema che è questo distacco è su una determinata aula e ci sono altre due o tre aule dove c'è un rischio significativo più altro, ma su elementi secondari, dunque non strutturali. E il focus, invece, i problemi sono legati a una porzione molto piccola di questa scuola. E dunque questo è da un punto di vista delle conoscenze della cognizione. L'indirizzo Moda è stato recentemente spostato a Montevarchi, nei locali della parrocchia, ma tutti gli altri studenti sono costretti a fare lezioni altrove. Ora, il passaggio successivo, evidente noi non possiamo intervenire su tutte le aule per renderle, da questo punto di vista, cambiare tutta la struttura, ma dovremo intervenire in modo graduale. Lo faremo dove il rischio è più alto e dopo lì faremo un intervento complesso. Sulle altre, dove il rischio non è significativo, così parlano i tecnici, utilizzeremo dei sistemi che sono di contenimento. Dunque sono sostanzialmente delle brache, delle briglie, che andranno a rievitare che un domani ci possano essere determinati distacchi. Che però, ripeto, la maggior parte delle aule sono solo listelli, non c'è un peso sopra una superfettazione che possa creare problemi per i studenti stessi. Noi abbiamo fatto fare già una prima verifica per il finale da tecnici esterni, abbiamo già ordinato il materiale, perché non è facile reperire questo materiale, c'è solo una società, una ditta in tutta Italia che lo rende disponibile e lo certifica soprattutto, questo è l'elemento importante. Abbiamo già individuato la ditta che poi farà il montaggio di queste strutture. Dunque noi contiamo che in poche settimane ci possa essere un rientro graduale su tutta la struttura.